Bello, un filmato finalmente Guardala, guardala com'è fiera lei Spaccaglielo nel collo Ecco, bravo lui Vai, assorbila Assorbila, è il momento giusto Alex, vai Dovevi farlo nel momento in cui era debole Mi ricordo di lui Ma non era il boss finale? O forse lo confondo con qualcun altro Sto sicuramente confondendo con un altro Il cacciatore supremo Quanto sei show Puttana Nopte Ok, così ci liberiamo Degli scartini Preso Cacciatore stordito Oh, vai Cosa devo fare? Cosa devo fare? Che non lo sapevo che sarebbe finita così Puttana che male E ti pareva che non apparivano gli idra ora? Oh, calmi, calmi Ecco, sono arrivati pure i carri armati Beh, almeno sono una distrazione, dai Vedi là così Vieni qua, vieni qua No, cavolo, ho perso Ho perso il momento Giusto Stavo per fare l'attacco Io Mi serve Ecco, qualcuno da mangiare Perfetto Presi tutti al momento giusto Allora, la prusta probabilmente Non è la mia migliore delle opzioni Ma è giusto per tenerlo anche a distanza Presi, presi Stocchi la faccia, sto stronzo Certo, potrei usare anche La lama gigante Che farebbe sicuramente molto più male Però, come ho detto Ma queste cose di pussetto si rompono? Ah, minchia Mi hanno sbattuto al muro in dodici Ci sono arrivato, madonna mia Merda, che male Uh È morto? Ah, dovevo rubagli l'energia Poco che avrei potuto prendere Eh, che non lo sapevo Ha fatto la capriola Ok, questa Nonostante la morte Mi sono divertito Si ricaricano lentamente Sfrutta il momento Per il tuo vantaggio Eh, lo so, lo so Il problema non è stato Il problema sono stati i carri armati E gli altri giganti Non pensare che mi faccio pregare Così Da un avversario talmente banale Uh, calmo Mi spiace No, per dire Mi dispiace Ma l'ho consumato Eh, invece Tutto quello che avevo appena consumato L'ho perso Questo soldato Guardava cose A caso Guardava come procedevano i lavori Lui Ah, ma è lui che lo faceva Io pensavo che erano i tentacoli Che lo facevano Sbrigati però Ok Stiamo per finire Nella stessa situazione Di prima Via Danì Vieni che Ho bisogno di assorbire energia Stavo per dire Ok Forse qualcosa Siamo riusciti a farlo Un po' di energia Forse No Preso Via E niente No Bisogno di mangiare Eccoli qua Oh Sarò anche stronzo Che abbiamo tutte le trasformazioni Che vogliamo Ma in questo momento Il lancio a granate È la cosa migliore Che posso usare Aspetta No Vieni qui Perfetto Dammi quel po' di energia Che è uscita Mi fa l'idea che in questo momento Stiamo usando Anche noi Le stesse identiche armi Che usano i soldati Lì c'era Ecco Via Merda No ma dai Perché non Avevo l'energia blu In quell'esatto momento Perché non me l'ha fatto Aspetta Energia Energia Preso Oh Finalmente Figlio del black watch Del black light Sbagliato Tranquillo che è ancora viva Ecco La pozza è pericolosa Che è pericolosa? Non è responsabile Ma è stabile Abbiamo altri problemi Si è solo Si è avvicinato Ma cosa ora? Si sembra che ho avuto Plani Fa lo che puoi Ragland Si è trovato In mezzo a sta storia Perché era lì Guarda sta gente Che sorride Comunque 300.000 10 migliorie Beh dai Iniziamole a prendere Allora Un paio di migliorie Visto che un po' di punti Ce l'abbiamo E sto giro L'abbiamo rischiata L'abbiamo rischiata Per bene Questo costa Un milione Veramente tanto Scatena una serie di attacchi taglienti Partendo da fermo Potrebbe essere buono Però aspetta Qualcosa con l'armatura Non ce l'abbiamo Beh questo potrebbe essere Assolutamente utile Questo dovrei prenderlo Però aspetta Ecco Corazza Niente La corazza è solo così Non si può modificare Niente Peccato Allora Va bene Andiamo sulla rigenerazione Perché sicuramente Ci serve più di altre abilità Abbiamo altri 290.000 punti Potremmo usarli Per il lancio Della massa muscolare Beh potrebbe essere utile Vediamo Iniziamo a potenziarci Quello che riusciamo Poi probabilmente Riusciremo ad avere Molti più punti Tra poco Sicuramente Se siamo già A un milione di punti Vuol dire che il gioco Ti permetterà di averli Quel milione di punti Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come non so se avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti